Sì, grazie Presidente. Allora, sulla questione Tari è ovvio che è un argomento molto importante e concettualmente è ovvio che anche per noi della maggioranza è prioritario quello di andare a un contrasto serio dell'evasione tariffaria, nonché in modo tale da recuperare anche risorse per Ama. Il discorso è questo, che noi stiamo oggettivamente già facendo una certa attività in questa direzione, c'è stata una difficoltà in questo primo periodo di nostra attività amministrativa perché la riscossione della Tari è passata da Ama a Equeroma e in questa fase di passaggio oggettivamente ci sono state anche delle difficoltà, però un dato che noi già sappiamo è quello che dai bollettini che vengono pagati dai cittadini un 60-65% pagano immediatamente la Tari, poi un ulteriore 15-20%, arriviamo all'85% pagano la Tari con un sollecito, un altro 15% a quel punto bisogna ovviamente è un problema doverlo recuperare e vanno recuperati con le agenzie di recupero dei crediti. L'attività che si sta facendo, noi abbiamo anche avviato un'attività nel momento in cui abbiamo portato avanti il porta a porta nel sesto municipio e nel decimo municipio, lì ovviamente è stato fatto un censimento e nel censimento sono state rilevate tutta una serie di utenze che di fatto non erano conosciute. Pertanto questa mozione, che è una mozione oggettivamente che concettualmente è condivisibile, ma riteniamo che già questa amministrazione sta facendo un lavoro in tale direzione, pertanto la maggioranza si astiene su questa mozione. Grazie.